Una stagione turistica da incorniciare, quella ancora in corso a Silvi, dove si sta registrando un aumento delle presenze. Eventi e manifestazioni richiamano tante persone e si protrarranno fino a fine settembre. Il sindaco Andrea Scordella non ama sbilanciarsi troppo, ma anche se ha intenzione di tracciare prima del prossimo autunno un bilancio definitivo, e pienamente soddisfatto per i consensi ottenuti dalle diverse iniziative del programma allestito dall'amministrazione comunale e da privati ed associazioni. Il primo cittadino e l'assessore al turismo, Giusi Di Giovanni, auspicano che tutto l'impegno profuso in questi mesi, i riconoscimenti ottenuti come la bandiera blu e quella verde e le partnership avviate sul territorio possano dare i frutti sperati e far tornare Silvi agli antichi fasti di alcuni anni fa. Abbiamo diverse manifestazioni ancora fino a fine settembre, ne citiamo qualcuna. Questa settimana parliamo di mare, con la rievocazione storica della sciabica. E poi in settimana verrà presentato un libro di Vittorio Scordella, proprio sulla marineria, Silva Rola, e su tutte le storie della marineria che tanto ha contraddistinto questa città. Abbiamo poi un bellissimo evento con i borghi autentici d'Italia, dove saremo presenti, con il nostro borgo. A settembre è la settimana europea dello sport e siamo stati anche invitati ad Enna al Festival del Folclore. Dato che l'anno scorso l'abbiamo ospitato noi, quest'anno andiamo in rappresentanza come Comune di Silvi a rappresentare la provincia di Teramo in Sicilia. Dunque tantissime ancora iniziative. L'estate per noi è ancora lunga, anche perché crediamo che non ci possiamo fossilizzare soltanto due mesi di luglio-agosto, ma dobbiamo ampliare lo scenario perché Silvi vive di turismo. Si spera che per il prossimo anno si incentivi ancora di più questa località.